Spettacolo puro sulle due ruote con una specialissima nuova versione della V4 che la Aprilia regala agli appassionati della prima ora, e non solo, due stelle da non perdere. Eccole. Aprilia è sinonimo di garanzia, infatto di moto, lo è da sempre, e continua a esserlo nel nome dell'innovazione, ma anche della scelta, sempre proficua, di allargare i prop. Per esempio, ecco arrivare, in effetti, proprio in questa ottica, una scelta di grande appelli in casa Aprilia, con l'edizione speciale per la Hyper Naked Tuono e la Super Bike. Di che stiamo parlando? Scopriamo tutti i dettagli di due delle Naked più amati dagli specialisti del settore, degli innamorati delle Aprilia del primo giorno o anche di quelle che hanno voglia di scoprire. Di che stiamo parlando? Due moto di sensazionale bellezza, forza, eleganza e un'aerodinamica in grado di fornire un doppio senso di libertà e di protezione, eccole le Hyper Naked Tuono e la Super B. Due nuove uscite, una edizione limitata e più che speciale per le V4 dell'Aprilia, quelle che sono viste come le vere e principali gemme della casa madre. Ma che cosa ci si deve attendere? Diamanti spettacolari a dure ruote, la Super Bike RS V4 Factory e la Hyper Naked Tuono V4 Factory, sono senza dubbio due del... Ma che cosa ci si deve attendere? Diamanti spettacolari a dure in un mercato che per certi versi appare congestionato, le Aprilia, in linea di principio fanno di per sé tendenza, e adesso, con queste due uscite in versione speciale se ne ha la Pro. Con un colore stile Speed White, e dunque una ulteriore variante cromatica che andrà ad essere disponibile per un periodo limitato, l'occasione appare propizia. Ma fino a quanto, nel merito? Il tempo stringe, perché ci sarà più o meno un solo semestre per approfittare di questa iniziativa, dal momento che le moto saranno disponibili da ma... Ma fino a quanto, nel merito, ci sarà davvero da luccicare gli occhi alla luce dell'aerodinamica delle forme, delle scelte in termini di stile e di alcune scelte che, graficamente non solo, le rendono... L'attesa è l'attesa non solo per l'aspetto estetico, naturalmente, ma anche per l'apporto di tipo tecnologico e per la qualità di conduzione. Ma il prezzo?